bella a tutti ragazzi sono Mirko bentornati su gameplay channel e su super market simulator allora ragazzi c'è stato un mega aggiornamento finalmente e finalmente come vedete le novità sono due principalmente uno che abbiamo il magazzino con le targhette con le targhette che indicano per l'appunto cosa c'è all'interno degli scaffali ma non solo indicano anche la quantità quindi cosa assolutamente apprezzata stessa cosa viene fatta per l'appunto in negozio con le targhettine appunto su ogni scaffale con quanti prodotti ci sono per ogni scaffale questo sicuramente molto utile per capire appunto come stiamo messi ma soprattutto l'aggiornamento diciamo più figo è il restocker eccolo qua fratello gemello dei cassieri e appunto lui va a prendere le cose in magazzino e ce le va a mettere al posto giusto quindi veramente veramente una figata assurda per cui siamo pronti a questo punto per aprire il nostro locale tra l'altro hanno messo anche una diciamo hanno cambiato le casse nel senso che adesso ci sono le casse praticamente specchiate penso per metterle una di fronte all'altra ed evitare che la coda si buggy probabilmente perché vedete che c'è la cassa normale c'è la cassa specchiata quindi penso che sia per organizzare diciamo così le file in maniera decisamente decisamente migliore quindi adesso abbiamo il nostro restocker che va qua a fare appunto tutte le sue belle cosettine allora io devo prendere sicuramente sicuramente la carta igienica ok che ne prendiamo anche tre magari e devo prendere anche il succo di mela che mi sa ho quasi finito adesso i prezzi li dovrei aver sistemati quindi fai acquista perfetto poi ovviamente come vedete ragazzi nel magazzino ho messo ovviamente un bel po di scaffali aggiuntivi perché adesso il problema qual è che il restocker diciamo fa il suo lavoro solo attraverso il magazzino quindi se io gli vado a mettere ad esempio uno scatone di carta igienica nello scaffale lui lo andrà a prendere il problema è che non mi va a prendere quelli fuori diciamo quando viene fatta la consegna lui cartoni li lascia lì dobbiamo essere noi a prenderli e portarli in magazzino però è comunque già una grandissima vittoria questo restocker diciamo perché ci dava un aiuto veramente veramente enorme anche perché tra l'altro lo fa come vedete in maniera continuativa quindi man mano che la gente prende la roba lui appunto avete visto ha messo adesso la carta igienica la va per l'appunto a riprendere allora io devo però fare ancora un ordine in realtà di un bel po di roba salve signore allora devo prendere sicuramente la candeggine tutte le cose nuove perché vabbè adesso mi sono perso un attimino via a vedere per l'appunto il il lavoratore quindi prendiamo mozzarella parmigiano miele questo questo e questo ok così ordiniamo un bel po di roba ole vedete casca tutto e siamo a posto quindi il problema adesso l'unica cosa è che bisogna avere veramente veramente una quantità di posto in magazzino allucinante perché per l'appunto insomma servono una marea di scaffali per ogni singolo prodotto perché fondamentalmente dovete avere gli scaffali che possano contenere tutti i prodotti che avete per l'appunto in magazzino tra l'altro lui butta via anche le scatole vuote quindi un genio un genio assoluto perché almeno non fa neanche casino con le scatole per cui tanta tanta roba veramente veramente tanta tanta roba e almeno avete un aiuto insomma assolutamente concreto per quanto riguarda la sistemazione del negozio anche perché lui appunto facendolo diciamo in maniera assolutamente continuativa no questo è già pieno ok come si dice vi aiuta ovviamente a mantenere diciamo sempre la roba bella piena negli negli scaffali quindi è ovviamente un un enorme aiuto perché così non vi ritrovate a fine giornata a dover risistemare da zero tutto quanto insomma tutto quanto il negozio quindi è un gran bel aiuto devo dire che è veramente veramente un enorme aiuto allora mettiamo sotto le uova tra l'altro altre cose che hanno sistemato hanno messo finalmente gli yogurt la doppia fila perché vi ricordate gli yogurt li metteva solo in una singola fila quindi anche questa è una grandissima cosa e dunque ok io devo prendere però anche la farina sicuramente le due farine lo zucchero a velo il pane devo prendere ancora un po di roba in realtà come detto st'ordine è andato un po così però vabbè sta giornata sono stato un attimo impegnato a vedere che faceva per l'appunto il il nostro dipendente quindi prendiamo anche uno di pasta prendiamo uno di zucchero a velo e va bene dai boh io gli metto e alle casca giù che se non ci arrivo grazie ok io gli metto intanto un po di roba gli do una mano perché tanto vabbè adesso siamo in due a fare le cose quindi è tutto decisamente più comodo e veloce così allora mettiamo tutta la farina dunque qua mi ci va quella quindi mettiamo questa mettiamo questa questa l'ho già finita ne devo comprare ancora adesso poi vabbè andremo a insomma rimettere tutto correttamente man mano che ci arriva la roba però per il momento giusto per non far cadere nulla dagli scaffali vediamo di mettere su tutto quello che abbiamo ok perfetto tech e andiamo anche a mettere questi ok buona così almeno almeno le farine le abbiamo un attimino risistemato ok questo mettiamolo qua sotto che poi al massimo che pensa lui a fare tutto ok boh metti sul pane perfettissimo così qua ce n'è ancora no quindi questo lo possiamo buttare ah beh un altro pane allora lo metto qua te lo piazzo qua gioine poi sistema tue naturalmente adesso come detto dovremmo avere insomma un sacco di posti magazzino quindi sicuramente dobbiamo ampliare assolutamente il magazzino perché sennò se non non ci stiamo non ci stiamo mai più nella vita volevo provare a cambiare cassa ma cioè volevo provare a mettere quelle specchiate in modo da metterne una girata così e una girata al contrario l'unica cosa che c'è il dubbio e devo provare questa cosa non so se posso venderle queste casse questo sinceramente sinceramente non lo so aspettate perché qua avevo un po di scatole messe qui magari gliele metto su ah cacchio il succo di mela ce l'avevo vedi e vabbè fa niente lo mettiamo qua e anche questo glielo butto là sopra così almeno lui va va a fare tutte le sue cose allora io volevo prendere eventualmente ancora un po di cosettine posso prendere un po di latte un po di tè un po di caffè insomma un po di roba un po di roba magari ancora la prendo dai prendo quell'altra farina intanto che non ne ho tantissima va bene poi prendiamo prendiamo magari anche dove cacchio sta allora due confezioni di latte magari ne prendo una di queste prendo anche una cosa di dolci perché mi sa che anche i dolci sono probabilmente senza quindi iniziamo a fare questo ordine qua poi poi pian piano sistemiamo dai pian piano sistemiamo il tutto perché se no è un po un casino come detto mi sono perso un po via a vedere diciamo il nostro il nostro lavoratore che che combinava però devo dire che funziona funziona assolutamente bene quindi ottimo ottima cosa serviva assolutamente un aggiornamento del genere perché come detto diventava veramente veramente complicato riuscire a stare dietro a tutto insomma tra l'aumento del negozio insomma tutti i vari upgrade che possiamo fare sistemare i frigo gli scaffali e tutto quanto dover anche sempre risistemare tutta la roba diventava veramente veramente un casino invece così finalmente abbiamo un bel aiuto insomma cacchio il latte l'avevo finito meno male che l'ho preso al volo spero che nessuno lo volesse insomma qualche minuto fa perché eravamo completamente senza però dai adesso adesso ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok allora abbiamo l'altra farina quindi la mettiamo su perfetto poi avrò bisogno anche di quell'altra farina rossa ancora però vabbè piano piano si fa tutto piano piano si fa tutto ok questa è ancora un'altra farina dove te la butto qua che tanto è uguale e adesso andiamo a rimettere un po di un po di dolciumi perfetto poi vabbè rifaremo insomma un attimo tutto l'ordine ok questo lo mettiamo qua e via ovviamente adesso ragazzi è necessario per forza di cose aumentare per l'appunto il magazzino e io ho un paio di scaffali in più come avete visto li ho già presi il problema è che dovrei proprio un attimino aumentare e prendere decisamente più scaffali adesso volendo un altro scaffale qua mi ci sta però sono comunque pochi perché i prodotti sono veramente tanti adesso iniziano a essere davvero tanti di conseguenza dobbiamo avere veramente una quantità di scaffali esagerata perché abbiamo anche i nuovi prodotti qua che tra l'altro il parmigiano l'ho anche quasi finito adesso speriamo che non non lo voglia nessuno in questo preciso momento perché se no se no è un po un casino se no è un po un casino vediamo un attimino quanto costa l'aumento del negozio del magazzino scusatemi beh mazzo 1881 e non costa poco è allora facciamo una cosa è vero che un po di soldi le ho tra l'altro io devo pagare ecco le fatture che mi sono scordato vediamo anche le cose dei prestiti sono dei pagamenti si uno lo paghiamo già subito prima che prima che me scordo così dai abbiamo fatto comunque 2100 stiamo guadagnando bene stiamo guadagnando veramente veramente bene io volevo capire un attimo come vendere la cassa non posso venderla la cassa posizionare ruotare in scatolare perché la posso in scatolare a vendere ok allora la posso vendere e allora facciamo una cosa io questa la vendo ok così mi ridà un po di soldi allora facciamo così adesso quello sta ancora mettendo su roba sì ma tanto vabbè lui continua comunque a mettere quindi abbiamo fatto 45 clienti quindi stanno aumentando assolutamente i clienti comunque nessuno scontento nessun prezzo troppo elevato quindi siamo andati perfettamente allora farina e candeggina stanno aumentando e non ho visto cosa è sceso quindi allora intanto 568 facciamo 5 e 70 ok e la farina quale delle due è aumentata dunque 683 no questa qua direi che è giusta 404 è aumentata questa quindi posso fare 4 e 10 dai sì questa 4 e 10 va bene devo vedere cos'è calato perché non mi ricordo cos'è che è sceso di prezzo allora vediamo un attimo farina ok l'abbiamo aumentata è sceso è sceso fatemi vedere un attimo che cacchio è che è sceso non vedo nulla allora candeggina l'abbiamo aumentata al sapone ok il sapone è sceso ah il parmigiano ok quindi questo 1,71 facciamo 1,80 perfetto così e il parmigiano invece 5,13 possiamo fare 5,20 direi che va bene direi che va bene ok adesso faccio un attimo continuare lui che intanto sistema le cose voglio provare a prendere questa cassa a specchio quindi prendiamone una ok perché voglio capire cosa cambia posso metterla forse così quindi intende questo a specchio non ne ho veramente la più palida idea ma credo di sì credo che si possano mettere così a questo punto ma mi fa un'unica coda o farà casini non lo so sinceramente vabbè posso provare a lasciarla così e vediamo vediamo se mi fa lo stesso la gente a parte che era più bella come era prima comunque quindi io in ogni caso la lascerei così dai lasciamola comunque così vediamo tanto una fila qua una fila qua secondo me anche più bellina così poi quando ci allarghiamo ovviamente andremo a sistemarla in maniera un attimino un attimino diversa allora lui sta continuando a mettere roba ok volevo vedere un attimino come siamo messi allora a livello di farina siamo a posto succo di mela ce l'abbiamo la coca cola quella lì bianca ce l'abbiamo farina abbiamo un casino in realtà quindi va benissimo sì devo prendere un altro po' di roba un po' di tutto in realtà a parte la coca cola quella bianca poi per il resto prenderei prendere un po' tutto quindi a parte la coca cola la farina quella blu allora per cui vediamo di prendere allora uno di cereali uno di pane la farina blu abbiamo detto di no l'olio la pasta ancora un po' di zucchero l'acqua magari un'altra la prendo il caffè le uova e il latte ok poi adesso vediamo se riusciamo magari a prendere anche un altro un altro scaffale non sarebbe sicuramente male perché secondo me serve secondo me ancora un altro scaffale serve ragazzi perché qua è veramente un casino allora vabbè il succo d'arancia lo prendo quindi questa abbiamo detto di no questa magari la prendo succo di mela sì ancora uno magari lo prendiamo perfetto questa qua questa anche ne prendo una questi dolci sì magari uno per tipo lo andiamo a prendere gli yogurt sì perché adesso vedo che stanno andando decisamente più candeggina ne prendo due perché va parecchio perfetto ecco peccato solo che lui non mi prende le scatole fuori quello è veramente un peccato perché sarebbe molto comodo questo sarebbe effettivamente comodissima questa cosa 9 10 ok e prendiamo magari ancora un po' di questi questi qua nuovi ok magari parmigiano ne prendiamo due che vedo che stanno andando tanto dai così così direi che può andare bene allora visto che ho ancora un po' di soldi dietro io prenderei anche uno scaffale sempre per il magazzino di modo che almeno riesco a sistemare un po' meglio un po' meglio le nostre merci tanto un altro scaffale qua direi che ci sta alla stragrande ci sta assolutamente alla stragrande quindi vabbè gli do una mano io tanto almeno in due facciamo decisamente prima così la candeggina la mettiamo via questa è altra candeggina la metto tutta assolutamente qua tac ok e sì quindi allora adesso diciamo che con questo aiuto dovremmo un attimino dovremmo modificare un po' l'organizzazione di tutto il negozio secondo me dovremmo modificare un attimo nel senso che bisognerà fare appunto tutti gli ordini la mattina mettere a posto tutto in magazzino in modo che poi lui possa darci per l'appunto un aiuto effettivamente concreto e poi vediamo perché magari non è detto che gli diano anche la possibilità di prendere gli scatoloni fuori come detto questa sarebbe una cosa sicuramente comoda vediamo se se magari aggiungeranno anche questa cosa ribadisco non sarebbe non sarebbe affatto male però già così è veramente tanta tanta roba tanto aiuto in più quindi insomma apprezzo molto lo sforzo degli sviluppatori anche perché comunque non mi aspettavo un aggiornamento del genere così presto rispetto all'uscita del gioco anche perché calcolate che insomma inserire comunque un'intelligenza artificiale una persona in più che sistema le cose in magazzino non è comunque neanche una cosa così scontata perché ovviamente bisogna insomma programmarlo ad avere perché fino adesso non mi ha dato problemi quantomeno io l'ho provato un pochettino off camera però visto che funziona bene va a prendere le cose riconosce per l'appunto dove sono già state posizionate quindi ve le mette in maniera corretta e di conseguenza non ho avuto assolutamente assolutamente problemi allora lui adesso è lì a fare niente perché per l'appunto cose in magazzino da sistemare non ce ne sono ma adesso gliele metto io così almeno così almeno ci da una mano poi dovrei ordinare un attimino meglio diciamo le cose in magazzino per l'appunto infatti adesso gli ho messo zucchero no si vede che lo zucchero è pieno però il formaggio infatti adesso vedete che ha iniziato subito ad andare a prendere le cose così intanto ci da una mano ci da una mano con queste cose qua poi poi vediamo io comunque sto già più o meno cercando di dividere quantomeno qua ho fatto quello delle bibite quindi lì vado a mettere solo le bibite e questo volevo tenerlo magari cambio dov'è che era vabbè questo qua lo posso tenere invece per le cose dedicate diciamo alla pulizia ecco così almeno cerchiamo un attimo di dividere qua sto cercando se magari non c'era già uno scatolone di cereali ma mi sa di no quindi glielo metto qui ok vabbè il formaggio te lo metto io tanto ne abbiamo già un po' che possiamo tranquillamente sistemare questa scatola qua che cacchio ha la mozzarella la mettiamo e quindi dai sono contento ragazzi sono veramente contento spero che a breve inseriscano anche appunto il discorso diciamo così delle telecamere dei furti perché anche quello sarebbe veramente tanta tanta roba anche quella sarebbe veramente una figata assurda quindi non vedo l'ora che ci sia anche questa cosa qua io mo devo ricordarmi si devo dividere bene il magazzino ragazzi devo veramente dividere un attimo il magazzino così facciamo facciamo decisamente meno fatica a trovare le cose ok ragazzi allora io ho sistemato un pochettino il tutto adesso intanto apriamo perché se no qua non guadagniamo più assolutamente nulla ho sistemato un po' il tutto ho preso un altro scaffale in più che ho messo qua così sto cercando pian piano di dividere diciamo i prodotti quindi qua tengo uno scaffale questo lo devo tirar via adesso vabbè per questo non c'ho posto però poi vedrò a sto punto di metterlo praticamente qua volevo tenere diciamo così uno scaffale dedicato solo alle bibite mentre invece questo qua lo terrò appunto per i prodotti da bagno diciamo così dalla pulizia poi qua sto cercando di mettere tutti i prodotti da frigo insomma sto cercando un attimino pian piano di dividere il magazzino come detto non è semplice qua ho fatto tutto il reparto dolciumi torte cioccolate eccetera perché comunque i prodotti ne abbiamo veramente veramente tanti di conseguenza abbiamo bisogno di ingrandire il magazzino però come abbiamo visto costa mica poco quindi pian piano lo faremo ah un'altra cosa molto figa finalmente che hanno fatto perché non aveva senso non farlo il computer il computer lo possiamo mettere adesso in ufficio quindi io me lo piazzo qua così avremo qua il nostro computer per fare gli ordini almeno qua rimane tutto decisamente più libero e anche carino diciamo così da vedere come detto non ho ben capito la cassa questa qua sì perché effettivamente ha una forma diversa rispetto a quell'altra quindi secondo me ah perché una fa la coda così e quell'altra probabilmente quindi se la mette al contrario fa la coda nell'altro senso ah ho capito perché a specchio adesso mi è chiaro perché non mi era chiaro appunto il discorso della cassa sì perché prendendo le due casse avete modo diciamo di fare una fila verso un senso e l'altra fila dell'altra cassa a specchio verso quell'altro senso quindi probabilmente è questo il motivo infatti vedete che questo imbusta di qua questo qua invece imbusta dal lato opposto quindi se le mettete una di fronte all'altro diciamo così si creano comunque due code separate senza senza avere troppi casini in cassa per cui questa è una cosa anche sicuramente molto molto utile che vabbè sfrutteremo di più più avanti quando ci allarghiamo un attimino di più col negozio perché vabbè adesso non abbiamo chissà quale necessità di fare appunto la coda a specchio allora comunque qua stiamo andando bene devo dire che i prodotti siamo a posto anche perché va perché ecco una cosa ragazzi ho notato effettivamente questo bug che spero corregano perché sennò incasina molto la cosa vedete che lui adesso mi ha messo l'olio qua sopra in realtà non è olio è pane non so per quale motivo ogni tanto me l'aveva fatto anche off camera quando stavo appunto provando il lavoratore non so per quale motivo ogni tanto quando mette i prodotti lui ha il cartone giusto del pane ad esempio mette sul pane ma quando poi il prodotto va su diventa un altro prodotto tipo adesso mi è diventato l'olio d'oliva non mi chiedete perché non lo so perché c'è questa cosa come detto spero che la correggano ma sicuramente sicuramente la correggeranno no più che altro perché fa un po' di casino a livello visivo no che uno dice ok c'è il pane poi vede mischiato l'olio dice che cacchio è successo ma ha fatto casino il lavoratore in realtà no è un bug non so per quale motivo diciamo che il prodotto assume la skin di un altro prodotto quando diciamo viene messo dal dal lavoratore non ho ancora capito quando succede perché fino adesso non me l'aveva più fatto poi in realtà ricaricando la partita vanno a posto cioè nel senso che ricaricando la partita tornano i prodotti originali infatti anche qua off camera mi erano comparse delle bottiglie dell'altro olio quello lì giallo dove è che è questo qua come caffè e primamente poi ricaricando la partita invece questi due qua che erano i due in cima che erano in realtà bottiglie d'olio sono ritornate a essere confezioni di caffè quindi vabbè c'è ancora questo bug sicuramente lo lo sistemeranno vabbè ci sta anche che insomma ci sia qualche qualche piccolo baguccio visto che hanno per l'appunto fatto questo mega aggiornamento allora io prenderei ancora però giusto due cose quindi prendiamo due di questi ho visto che ci manca questo perfetto e poi per il resto in linea di massima dovremmo essere a posto vabbè prendo degli altri prodotti diciamo questi ultimi che abbiamo aggiunto così almeno ce li abbiamo ok tanto li metto in magazzino poi si arrangia lui a a fare tutto vabbè questa la metto già io perché era quasi finita esatto così almeno così almeno non finisce del tutto perfetto poi questa qua la posso tranquillamente ah no quelli da frigo dove che li stavo mettendo qua perfetto e questi qua li vado a mettere allora qua abbiamo pane vabbè si senti questo lo posso mettere qua sotto e ok e tutta questa roba qua vediamo di ah qua è già pieno cacchio non ho preso un altro in realtà ne avevo ancora due pieni vabbè vabbè fa niente fa niente li useremo sicuramente non avevo un'altra confetta no dove chi li sto mettendo non era qua ho sbagliato era di qua allora no di queste qua si ce l'ho qua perfetto quindi aggiungiamo queste cose che mancano poi come detto si si arrangerà lui a fare tutto allora questo lo mettiamo qua questo invece il miele normale mi sa che ne avevo ancora si esatto aspettate che accendo le luci che se no che se no non si vede una mazza di nulla perfetto e questo qua glielo posso mettere invece forse ne avevo ancora qualcosa in giro sì qua eccolo qua perfetto ok dai così almeno abbiamo abbiamo rimesso un po' di prodotti che stavano stavano un po' finendo poi vabbè il prossimo giorno dovrò prendere ancora ovviamente roba qua spaghetti che stanno anche quelli iniziando a scarseggiare come vivite vabbè siamo anche relativamente a posto acqua va bene è finito uno ma comunque ne abbiamo ancora un sacco i prodotti nuovi ci sono quindi stiamo andando bene dai stiamo andando bene vediamo se dovevo pagare qualcosa che non mi ricordo allora dov'è che era la banca sì perfetto e poi forse avevo anche qualcosa di qua sì esatto questi qua uno e uno due perfetto allora non so se hanno aggiunto qualcosa a livello di licenze questo sinceramente non lo so più che altro perché non ho guardato rispetto a prima e però vabbè comunque anche qua come licenze arriviamo fino a livello 90 che era già così quindi non credo che abbiano aggiunto altre cose non so sull'espansione ecco se magari anche qua hanno aggiunto qualcosa qua addirittura la sezione 23 si sbloccherà poi a livello 99 quindi insomma diventerà veramente gigantesco il negozio diventerà veramente veramente gigantesco va bene vorrei prendere tanto l'ampliamento del magazzino ma anche questo costa veramente tantissimo quindi per adesso aspettiamo dovrei prendere anche almeno un paio di luci in più per diciamo qua l'ingresso del magazzino che si vede un po' poco però però vabbè dai per adesso tanto il nostro operario non ha problemi di vista a quanto pare quindi riesce comunque a sistemare tutte le cose senza problemi per fortuna allora adesso finiamo un attimo la giornata così vediamo oggi quanti clienti abbiamo fatto se è andato tutto bene in teorie però ti dovrebbero aver trovato tutto perché non abbiamo finito nulla questo anche appunto grazie al nostro operaio che man mano mette su le cose voglio vedere quando si sblocca il secondo operaio che non mi ricordo ah in realtà lo potrei già assumere volendo perché si sblocca a livello 22 poi 29 poi 37 quindi per assurdo lo potrei anche già sbloccare e allora a quel punto prendo tutta la roba la mattina e me la sistemano loro diciamo che con due che fanno avanti indietro sicuramente può essere può essere un'ottima cosa per adesso vabbè aspetto un attimo perché tanto uno visto che ci basta e ci avanza anche perché vabbè un po' di cose le sistemo io visto che poi non ho se no altrimenti nient'altro da fare anche perché appunto come detto gli ampliamenti per adesso devo aspettare un attimo perché costano veramente tanto potrei fare eventualmente un'altra corsia qua e andiamo a prendere poi magari un'altra licenza questa potrebbe essere diciamo così una cosa interessante da fare da fare dopo anche perché allora con la nuova licenza però mi sa che ho bisogno del freezer eh sì mi sa che ho bisogno del freezer per questi prodotti qua perché ci sono le patatine fritte quindi sicuramente vanno in freezer e il freezer cosa che ci costa che non mi ricordo eh dove sta dove sta? 400 eh sì si può prendere si potrebbe mettere qua ecco il freezer qua perché tanto penso che sia più basso così teniamo qua sempre il reparto frigo se ne possono prendere due in modo da eh sistemare anche quei prodotti lì tanto se c'è qualche altro prodotto comunque il posto ce l'abbiamo al massimo prendo ancora un paio di scaffali tanto qua ce ne sta ancora uno quindi per mettere le patatine e quelle cose lì eh che non vanno ovviamente in freezer e basta dire che poi per il resto ci possiamo concentrare appunto sulla nuova licenza e poi magari eh fra un pochetto prendere sicuramente il secondo eh restocker ci può essere assolutamente utile allora vediamo come è andata la giornata 43 clienti quindi comunque eh buono stiamo facendo sempre sopra i 40 quindi direi che va benissimo eh nessuno insoddisfatto nessun prodotto non trovato o troppo gostoso quindi direi che anche questo è assolutamente perfetto bene così bene così allora il mio e la barretta invece è scesa quindi intanto sistemo già subito i prezzi ma in realtà questo va bene eh questo qua va bene quindi o l'avevo tenuto troppo alto però nessuno se l'ha aumentato 11.22 11.40 secondo me va bene e la barretta invece dovrebbe essere calata sì questa effettivamente sì la teniamo a tre che anche questa direi che va bene eh va bene ragazzi allora io direi comunque che posso concludere qua questo nuovo video dedicato a Supermarket Simulator eh bel aggiornamento veramente veramente un bel aggiornamento apprezzato tutto eh sia il fatto del computer qua sia il discorso appunto del ehm dell'operaio e anche comunque le casse eh danno modo diciamo di organizzare poi tutto in maniera decisamente migliore quindi pian piano poi eh metteremo tutte le cose a posto come detto qualche bug come vedete ancora sistemare c'è però non penso sia un problema sicuramente col prossimo aggiornamento andranno a sistemare anche queste cose ma per il resto francamente non ho riscontrato altri eh problemi voi naturalmente fatevi sapere insomma se avete già preso un'operaio come eh vi trovate se vi ha creato magari qualche problema detto questo ragazzi io vi invito quindi come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco un sacco di like condividete con i tanti iscritti al canale se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube altasino grazie di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti vi ringrazio di saluto ci vi chiamo nei prossimi gameplay ciao belli